Questa cosa è partita un mesetto fa, una mia idea che ho proposto qua alla parrocchia di Cucurano dove io vivo, siamo io e Armando Dolci, abitiamo nel territorio di Cucurano, quindi l'abbiamo proposto all'ACLI e quindi all'oratorio della stazione Cucurano e la proposta è stata accettata con entusiasmo. In un secondo momento abbiamo avvisato e esteso la proposta di vari amici, cantautori, fanesi, amici musicisti e hanno aderito subito con entusiasmo e passeremo un bel pomeriggio di musica insieme, un Natale in musica sarà con me, il sottoscritto, con Stefano Fucili, Andrea Battisti, Claudio Morosi, il coro gospel, Enzo Vecchiarelli, Daniele Ferri che è il mio chitarrista e collaboratore e presenterà Giorgia Vegliò, quindi un bel pomeriggio passare insieme. E' la scusa ovviamente, la prerogativa per incontrarsi tutti quanti insieme per questa bellissima causa, questa giusta causa e dobbiamo assolutamente aiutare questo bambino che adesso necessita di cura anche maggiori, è un'attenzione notevole, quindi facciamo di tutto, partecipiamo numerosi a questo concerto, una voce per Federico il 20 dicembre, non dimenticate, al pomeriggio nella sala della fraternità della parrocchia di San Biagio Cucurano che si trova dietro la chiesa di Cucurano e questa sala polivalente nuova inaugurata adesso i primi d'ottobre, un bel salone e lo faremo lì perché anche perché Federico vive sul territorio, con la famiglia, la famiglia Mezzina abitano proprio a Cucurano e quindi abbiamo scelto il luogo, il suo territorio per fare questo raduno e questo spettacolo insieme.